Tanto soldo da pazzire, alle sedi mi temo alzare, ma c'è un sacco da pittare Per buttare o assemblare, per dipingere e giocare, un altro mutuo devo fare Ogni uscita che è un disastro, il defenso è un altro nastro Pochi soldi, tanto amore, è la vita del pittore Siamo modellisti galattici, living the hobby's life Pure il corso ho pagato, a una gara sono andato e nessuno mi ha cagato Un pennello serie 7, 4 amici, 2 birrette, le serate sono perfette L'amorosa roba a caso, guarda male, storce il nazzo Ho comprato un caro braccia, questa volta si mi caccia Siamo modellisti galattici, living the hobby's life L'amorosa rompa a caso, guarda male, storce il naso Ho comprato un caro braccia, questa volta si mi caccia Siamo modellisti galattici, living the hobby's life Siamo modellisti galattici, sempre qui con te Galattici amici ma soprattutto galattiche amiche Siamo qui per darvi un'informazione importantissima Sabato 6 e domenica 7 aprile Quindi tra pochissimo saremo alla Play di Modena Ospiti degli Amici degli Araldi Cose importantissime Abbiamo anche stilato un programma per accogliervi degnamente presso la fiera Sabato 6 e domenica 7, non potete mancare, non prendete impegno Non ci sono ferie, mamma, nonna, zia, cane, niente Venite alla Play di Modena Tra l'altro abbiamo un programmone della miseria Sabato mattina, paesiello libero fra gli stand Potrete incontrarlo, fargli le domande, le foto Portare dei modellini sarebbero molto apprezzati sicuramente Gradite le cosplayer nel caso che dovessero essere Toccatelo con moderazione in questo caso Invece, cari amici ma soprattutto care amiche Sabato pomeriggio avremo le 3 prove di Zinc tutte per voi Quali sono queste prove di Zinc? Ale Allora, la prima prova sarà il montaggio di Kairos Che non vi speriamo cosa sia Eh no, è giusto, è di Kairos misterioso La seconda prova, se sopravviverete alla prima Saranno i colori del mutamento E qui già il nome contiene in sé qualche indizio E da ultimo la prova più difficile di tutti I quesiti della Silver Tower Paura, eh? Questo è soltanto il programma di sabato pomeriggio Invece, domenica mattina Oltre a salutare le nostre vicerate Con cui faremo insieme a voi un sacco di cose golose e interessantissime Sempre domenica mattina in questo caso Ci sarà la discussione galattica Nella discussione galattica parleremo di cose hobbystiche Molto interessanti Soprattutto parleremo con voi di queste cose viste Quindi venite anche soltanto per fare due chiacchiere Due chattice sul hobby Insieme a voi e al di soprattutto Portate la colazione Da questo punto di vista Che è qualcosa di importante Portate il caffè Così ci sediamo e Chiacchiereremo insieme di quello che è il nostro hobby In compagnia proprio in amicizia E per concludere Degnamente Domenica pomeriggio Replicheremo con le tre prove di zinc Che stanno dico? Sono il montaggio di Kairos I colori del mutamento E infine I quesiti della Silver Tower Yeah Detto questo Vi aspettiamo numerosissimi Presso questa play di Modena Per divertirvi insieme a noi A presto Ciao Bin Sabato 5 Domenica 6 L'ho topata su Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Porca Puzzata Siamo qui Per Un'informazione Importantissima Sabato 6 E domenica 7 Saremo alla play Non ce lo faccio Gatti c'è qui Gatti che amiche Sabato 30 E domenica 31 Saremo Sabato 30 E domenica 31 Giugno Saremo alla play di Modena E quanto cazzo Fai sta play di Modena 6 e 7 Apro non posso Esatto Gatti Avremo il play Tutto per noi Non ci sa Ci sarà un cazzo Di nessuno Siamo qui Per dargli Un'informazione Importantissima Sabato I colori C'hai provato Siamo modellisti galattici Sempre qui con te C'è un cazzo C'è un cazzo C'è un cazzo C'è un cazzo